Ciao a tutti e benvenuti nel nostro video di oggi suiprestiti.online. In questo video parleremo del mercato assicurativo vita in Italia, un settore in continua crescita e di fondamentale importanza per la stabilità finanziaria delle famiglie italiane. Quindi, se sei interessato a saperne di più, continua a guardare. Che cos'è l'assicurazione sulla vita? Iniziamo con le basi. L'assicurazione sulla vita è un contratto tra te e una compagnia assicurativa. Paghi dei premi e in cambio, la compagnia si impegna a pagare una somma ai tuoi beneficiari in caso di tua morte o al raggiungimento di una certa età. Esempio, Maria paga un premio mensile di 50 euro per la sua polizza vita. Se dovesse morire, i suoi figli riceverebbero una somma forfettaria. Come funziona il mercato delle polizze vita? Il mercato assicurativo è come un grande salvadanaio comune. Paghi un premio per proteggerti da rischi futuri, e se qualcosa dovesse accadere, la compagnia assicurativa copre le spese o i danni. Esempio, immagina un grande salvadanaio in cui tutti mettono un po' di denaro. Quando qualcuno ha bisogno di coprire un rischio, prende dal salvadanaio. Previsioni per il 2023. Le previsioni per il 2023 mostrano un panorama interessante. Le polizze tradizionali sono in crescita, mentre altri tipi di polizze mostrano segni di contrazione. Gli ultimi dati disponibili al 31 dicembre 2022 mostrano un panorama interessante per il mercato assicurativo italiano. Gli investimenti delle imprese di assicurazione hanno registrato una contrazione del 16,4%, attestandosi a 677,3 miliardi di euro. Questo potrebbe essere un segnale di una strategia di investimento più cauta o di un reperimento di liquidità per altre iniziative. Le previsioni per il 2023 indicano dinamiche contrastanti nel mercato assicurativo italiano. Da un lato, le polizze tradizionali di ramo 1 sono previste in crescita del 12,5%, superando i 68 miliardi di euro. Questo suggerisce una forte fiducia nei prodotti assicurativi tradizionali, che offrono una copertura più stabile e prevedibile. Le migliori assicurazioni vita. Alcune delle migliori compagnie in Italia sono Poste Vita, Intesa SP Vita, Generali Italia e Alleanza Assicurazioni, basate su vari fattori come rendimento e affidabilità. Esempio, Marco ha scelto Generali Italia per la sua polizza vita, attratto dal suo alto rendimento sugli investimenti. Costi e rendimenti. Il costo medio di una polizza vita varia tra 80 e 200 euro al mese. In termini di rendimento, puoi aspettarti un ritorno anno medio del 2,53%. Esempio, Luca paga 150 euro al mese e può aspettarsi un rendimento anno medio del 2,53%. Puntina con estremo arrotondato, conclusione. Investire in una polizza vita è un modo eccellente per proteggere te stesso e i tuoi cari. È un investimento nel tuo futuro e nella tua tranquillità. Esempio, Valentina, una donna single di 30 anni, ha deciso di investire in una polizza vita come forma di risparmio e protezione finanziaria. E questo è tutto per oggi. Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete domande o commenti, lasciateli qui sotto. E non dimenticate di iscrivervi per più contenuti come questo.